Ora, rilassi il vostro destino! Quindi, per ogni personaggio con la possibilità di renderlo edit, andrò ad analizzare una possibile composizione di squadra e un piccolo approccio al mazzo che ci si può costruire attorno. Per prima andiamo a vedere lui, il più iconico di tutta la saga di Star Wars, sto parlando dell'imperatore Palpatine. L'imperatore Palpatine ha un dado di tutto rispetto, ha circa il 33% di possibilità di far danno, ha una capacità speciale che ci dice che ogni volta che noi risolviamo un suo dado personaggio, l'avversario è obbligato a distribuire due danni sui suoi personaggi, a sua scelta. Le altre facce dei danni e del dado ci permettono un ottimo controllo della mano del nostro avversario, oppure un ottimo controllo sui danni che subiamo. Per questo personaggio ci sono due composizioni. Possiamo schierarlo Elite da solo, come unico rappresentante della nostra squadra, appunto per il costo di 28 punti, oppure schierarlo base accompagnato. Iniziamo a vederlo Elite. Elite, ovviamente, il nostro mazzo sarà composto da carte solo blu e solo grigie, malvagie, e tutto il mazzo sarà fondamentalmente basato sul non far morire Palpatine. Io personalmente consiglio di giocare o il castello di Mazz, oppure la giunga Ototh. Questo perché, avendo un solo personaggio, reclamiamo il campo di battaglia molto spesso. Con la giungla ci curiamo di un danno, che vuol dire appunto portare la partita a un filino più alle lunghe. Col castello andiamo a pescare due carte. Tutte quelle carte che non ci piacciono le mettiamo in fondo al mazzo. Dopodiché andiamo a rifillare la mano a 5. Ora andiamo a vedere la composizione di squadra con il Palpatine a dado singolo. Allora, l'unica che a mio avviso al momento è validata a giocare è quella tra Palpatine e il pilota TIE. Il pilota TIE ha una speciale di tutto rispetto. Ci fa non rimuovere dall'avversario i dadi di Palpatine finché avranno faccia danno ranked, fino a che il dado del pilota in campo. Questo abbinamento è accompagnato sempre da Cargold. Cargold ci permette di giocare training sul pilota, reclamare e spostare training su Palpatine e avere così il costo di squadra di 36 punti, quindi barando un po' sulle regole del gioco. Poi se noi abbiamo anche un altro training da mettere sul pilota, arriviamo ad avere 44 punti e stiamo giocando praticamente con due squadre. Questa, a mio avviso, è l'unica abbinata valida con Palpatine a dado singolo. Ora andiamo ad analizzare un altro personaggio iconico della saga di Star Wars. Venne presentato in doppia tipologia in tutte le espansioni di Star Wars Destiny e sto parlando di lui, di Darth Vader. Analizziamo per primo la versione di Risvegli. Allora, vediamo che il dado ha il 33% di possibilità di far danno. Ha un'abilità intrinseca che ci dobbiamo ricordare, che dice che all'attivazione di questo personaggio possiamo far scartare una carta dalla mano del nostro orversario. Le altre facce sono di controllo. Vediamo che abbiamo soltanto un vuoto, quindi è un bellissimo personaggio. Un po' costosetto in punti, però ha tanta vita ed è blu, quindi ci permette di giocare l'holocron, ci permette di giocare tante rimozioni, eccetera, eccetera. A chi possiamo affiancare questo personaggio? Possiamo affiancarlo in modalità Elite con un Tusken, sempre della prima espansione, un buon filler per 9 punti, 8 punti di vita. Abbiamo un personaggio che all'incirca al 50% fa danno e che ci permette di attivare uno dei suoi dadi o uno dei dadi di miglioria a lui assegnati scartando una carta dalla mano appena dopo che noi attiviamo questo personaggio. Ci permette appunto di rushare un pochetto. Mentre per l'espansione di Spirito della Ribellione possiamo vedere la guardia reale, sempre al costo di 9 punti e 8 punti vita. Abbiamo un personaggio blu, quindi andremo a formare un mazzo monocolore, con il 33% di possibilità di far danno e un modificatore molto alto per i dadi di Darth Vader. Ha due abilità, Guardiano, che appunto ci permette di proteggere Darth Vader e un'abilità negativa che dice che non possiamo giocare abilità blu su questo personaggio. Questa abilità negativa può essere ovviata con Holocron, perché appunto Holocron non ci fa giocare ma ci fa posizionare l'abilità sul personaggio. Vediamo che entrambi i mazzi sarebbero da 30 punti. Entrambi i mazzi sono molto aggressivi aggro. In una tipologia abbiamo solo il colore blu, quindi la solidità di avere un solo colore. Nell'altra tipologia abbiamo blu e giallo, che sono i due colori di controllo migliori. Vediamo ora la versione di Spirito della Ribellione. Anakin Skywalker, denominato Darth Vader proprio per evitare di giocarli assieme. Un buon dado, 50% di possibilità di far danno, ma ha una speciale veramente forte. Facciamo 3 danni a un personaggio a nostra scelta, subiamo un danno noi. 11 punti vita, 13 punti il costo base, 17 con l'Elite. Un po' costosetto con l'Elite, però per le capacità intrinseche del dado ci sta. Lo accompagniamo, o al meglio, con l'uscita di questo personaggio si crea un archetipo. Utilizzando Kylo Ren, quello del pack base, che penso conosciate tutti, 33% di possibilità di far danno, o quasi nulla, perché comunque un danno e due costano una risorsa. La speciale è un po' casuale. Scegliamo una carta alla mano dell'avversario, la guardiamo, in base al costo di risorse, facciamo danni su un personaggio che abbiamo indicato prima di guardare la carta. Ovviamente, Elite, Elite, sia Vader che Kylo Ren. Il campo di battaglia mi sembra abbastanza ovvio, che sia la Sala Imperiale, che dice che al reclamo di questo territorio, noi un nostro dado lo giriamo su una faccia speciale e lo risolviamo. Capite anche voi che fare una speciale di Kylo o una speciale di Darth Vader, così a gratis, è molto forte. Il mazzo si sta ritagliando un'ottima fetta del meta, proprio per contrastare un mazzo in modalità ribelle, che andremo a vedere in una prossima puntata, che è Po-Maz, che è abbastanza fastidioso da trovarsi contro, diciamo così. Un altro bel personaggio da giocare è un personaggio canonico della saga di Star Wars, un po' messo in secondo piano in questi ultimi anni, ed è il droide IG-88, il droide assassino. Allora, possiamo vedere che ha un buon pool di danni sul dado, avendo 2-3 sulle facce Ranged, ha una speciale veramente forte, ma molto vincolata alla costruzione del mazzo, e poi ha degli scudi, addirittura uno a costo una risorsa, che è come fare un vuoto quasi. Allora, la sua capacità cosa ci dice? Che con la speciale possiamo giocare un'arma, un equipaggiamento dalla pila degli scarti su questo personaggio scontandoli due. Quindi tutti i jetpack, tutte le pistole gialle, le possiamo assegnare su di lui. Ovviamente, dov'è la parte brutta? Questo dado sarà attivabile dal turno dopo. Quindi dobbiamo fare un turno di attesa, di costruzione della nostra forza. Come lo possiamo abbinare? Ovviamente lo giocheremo Elite, perché comunque ha un ottimo pool di danno. Lo possiamo abbinare a un FN, per triggerare bene la sua abilità, nel senso FN, gli appoggio sopra una miglioria gialla, ipotizziamo il vibro tirapugni. Tiro il dado, risolvo il dado, dopodiché ho un'azione, posso che ne so, mettere un blaster grigio sopra il vibro tirapugni, il vibro tirapugni va al cimitero, ho ancora azione, attivo FN, eccetera eccetera, e quando mi esce a speciale di IG, rimetto il vibro tirapugni su IG. Non male, come trick, un po' trichettoso, ma potrebbe funzionare. Oppure lo possiamo abbinare al più semplice e classico filler, che può essere il Death Trooper, che ha un ottimo dado, al 50% di danni, ha una faccia modifica più 2 e poi ha un disrap. Fa 10 punti per 10 feriti, sono tanti, possiamo giocare anche le rimozioni rosse, che non sono affatto male. Come il campo di battaglia, io consiglio l'Armeria Imperiale, che ci fa giocare una miglioria con decrementato di 1. Quindi appunto, volendo, IG, il turno dopo, ha una miglioria in più di Armeria Imperiale e 1-2 migliorie o armi date dal cimitero, date dalla speciale. Non è affatto male. Bene, rimaniamo su FN. FN, un personaggio con il 50% di danni sulle facce del dado. Ha una bella capacità che ci dice che possiamo rollare il dado di un'arma che posizioniamo su di lui e risolverlo immediatamente. Questo cosa ci fa fare? Posiziono l'arma, tiro il dado, risolvo, rimetto il dado su FN, quando attivo FN ritirerò il dado. Bella abilità. Noi come lo possiamo accompagnare giocandolo Elite? Abbiamo visto IG Elite FN base, con FN Elite io consiglio di giocare il sempreverde Django Fett Elite. Abbiamo due abilità che praticamente ovviano le capacità azione che dobbiamo attivare noi. Intendo che ovviano il problema di doversi attivare per poi dover risolvere il dado in una successiva azione. Tutto questo lo giochiamo con ancora il campo Armeria Imperiale, perché appunto noi rivendichiamo, piazziamo arma su FN, tiriamo il dado, se possiamo lo risolviamo subito. Un bel trick, abbiamo relativamente più vita del famigerato Django Wyrs, abbiamo i danni un po' più mischiati, può essere un problema, a volte invece può essere un pregio quasi. Vediamo ora uno dei miei personaggi preferiti, è presentato nei film nel settimo episodio e sto parlando di Balatik. Balatik ha un dado Ni, nel senso ha una sola faccia che fa danno autonomamente, le altre facce danno sono modificatore e poi ha delle facce da accompagnamento diciamo. Ha un'ottima abilità che ci dice che ogni volta che noi uccidiamo un personaggio di un avversario, noi stappiamo cioè ripossiamo attivare Balatik. Ha pochi punti vita, però ha pochissimi punti di costo. Ci permette di giocarlo Elite e poterlo accompagnare a uno o due personaggi abbastanza forti. Con la vecchia edizione con Risvegli si giocava quasi sempre, spesso, Balatik Elite, il sempreverde Django Fett base e poi per ovviare ai danni dell'avversario oppure per poterci permettere di avere più danni non modificati, andavamo ad aggiungere il trooper. Quindi Balatik Elite, Django base, trooper ovviamente base. Per un costo di 30 punti abbiamo tre personaggi, relativamente abbiamo pochi punti vita, però abbiamo tutti quegli eventi rossi che spostano i danni dell'avversario sul trooper, abbiamo tutte le armi rosse e abbiamo il solito trick con Django. Mentre con l'uscita della nuova espansione si staglia un nuovo archetipo. Mono giallo, Balatik Elite, Aurasing Elite. Anche qui abbiamo pochi punti vita, Aurasing però ha un ottimo dado, 50% di possibilità di far danno, ha un'abilità passiva, abbastanza forte, ci dice che prima di risolvere uno dei dadi di Aurasing possiamo scartare una carta da mano per aumentare il suo valore di 1. Ok carino, ovviamente possiamo dire scartare carta da mano non è bello, può diventare bello se noi andiamo a giocare come campo di battaglia The Coin King Bay, che ci dice che al reclamo ci fa giocare un supporto dalla mano, non ci interessa, o dalla pila degli scarti decrementando il suo costo di 1. ricordate tutti quei supporti a costo 1 dei gialli, famigerato, spalle protette, quello che ci da risorse comunque sono tutti i supporti che noi andiamo a scartare dalla mano per aumentare il valore di housing e poi giocheremo gratis nel momento in cui reclamiamo il campo, è un buon mazzetto da provare. Ora per non dilungarmi troppo col video vi presenterò quei personaggi che a mio avviso hanno le potenzialità cioè nel senso hanno tutte le carte regola per poter fare quello che per cui sono stati creati dal gioco ma che al momento non si stagliano un vero loro mondo nel meta attuale. partiamo dall'archetipo control diciamo per l'archetipo control possiamo mettere il conte duco 11 punti e 15 per quello elite, 10 ferite sembrerebbe a primo avviso un personaggio da picchio ma più lo giochiamo più capiamo che è da control perché la sua abilità che ci permette di mantenere in vita un qualche turno in più ci permette di controllare di più l'avversario di poter giocare più liberalmente abbiamo il blu che ci da appunto il controllo e poi abbiamo una faccia d'anno e una faccia d'ado di duco che ci permette di scartare due carte da mano all'avversario abbiamo per i gialli Jabba de Hat non fa assolutamente danno il suo dado ma ha un controllo eccezionale spacca due risorse scarta due carte in più ci permette di far rirrollare un dado giallo dopo che lui si attiva può essere uno dei suoi o uno qualsiasi che è già in campo sempre per il blu abbiamo Zeich Ventress carino sembrerebbe anche lui un personaggio da danni da aggro ma capite anche voi che per 9 punti vita o riusciamo a rendere il suo aggro veramente efficace oppure ci basiamo sul fatto della sua abilità passiva cioè l'avversario ogni volta che vuole rirrollare deve scartare due carte invece che una sola in più ha uno spacca risorse e un focus sempre per i gialli invece abbiamo Ankerplat anche lui non fa danni lui non scarta a dispetto di Jabba ma spacca risorse in più ha un'abilità veramente carina secondo me ci si può costruire qualcosa attorno ci dice che a costo di un'azione noi rimuoviamo un qualsiasi numero di dadi sul nostro lato di campo per un totale di valore tra o più quindi scartiamo una carta a casa o a mano dell'avversario e guadagniamo risorse pari al suo costo vi ricordate di Signore dei Crimini? ecco Ankerplat ci permette di fare tutte quelle risorse che ci servono per attivare Signore del Crimine mentre per l'archetipo aggro danno vi presento questi personaggi il primo ha fatto furore nella prima edizione è stato sospiantato da FM ed è il General Rebirth fa un sacco di danno ha un buon modificatore più 2 ha un'azione carina ha pochi punti vita e un costo abbastanza altino rispetto a quello che può fare poi abbiamo Direttore Krennic una sola faccia danno un ottimo controllo se controlliamo il campo di battaglia ci permette di tirare un dado anche di un Death Trooper ha un costo veramente alto nella prima edizione abbiamo il Capitano Fasma che ci rende guardiani tutti quelli non unici che giochiamo insieme a lui anche lui due facce danno basse però e poi abbiamo il personaggio più bello della saga di Star Wars che è il Generale Grievous 50% di possibilità di far danno la capacità di rubare le armi dell'avversario purtroppo ha un costo alto per la versione Elite rispetto ai punti vita notate qualcosa di comune in questi quattro personaggi? si, sono tutti rossi questo cosa vuol dire? che la FFG sta un po' ignorando i rossi? no, secondo me o ci si costruisce qualcosa intorno o semplicemente hanno bisogno di altre carte di altre espansioni tipo Grievous ha bisogno di armi rosse da melee FASMA ha bisogno di accompagnatori a basso costo che secondo me non usciranno mai VIRS semplicemente ha poca vita e Krennic costa troppo secondo me tra questi quattro gli unici due che possono dire la loro in una determinata shell possono essere il Direttore Krennic e il Generale Grievous siamo arrivati verso la fine ora analizziamo i filler che sono i tappabuchi i riempi spazi quelli che quando ci mancano pochi punti andiamo ad acquistare come primo vediamo lo Stormtrooper base 7 punti per 7 vite 3 facce danno quindi 50% di far danno 2 facce nulle è rosso quindi ci da accesso ad alcune carte di rimozione dei rossi dopo di che abbiamo il Tusken il Rider anche lui 50% di far danno la capacità l'abbiamo già vista prima vi ricordo sempre dopo che lui attiva possiamo scartare una carta a mano per risolvere subito uno dei suoi dadi anche delle sue migliorie ha dei danni un po' misti come possiamo vedere e poi abbiamo la sorella della notte 33% di far danno buon compagno di controllo 8 punti per 7 vite con un'azione subiamo un danno sulla sorella della notte per ritirare un dado uno qualsiasi mentre con la nuova espansione abbiamo il Death Trooper 10 vite per 10 punti 50% di danno un ottimo modificatore anche lui rosso però 10 vite per un personaggio non unico sono tantissimi abbiamo la Guardia Reale 9 punti per 8 vite 33% di possibilità a far danno più 2 danni mischia anche qua un ottimo modificatore la capacità Guardiano e la abilità negativa di non poterci mettere sopra delle abilità blu anche lui un buon compagno se vogliamo proteggere il nostro personaggio principale abbiamo il mercenario 33% di possibilità a far danno e poi solo modificatore quindi non è un ottimo dado 9 vite per 8 punti è un ottimo personaggio di accompagnamento con un'azione rimuoviamo il suo dado per togliere uno scudo se ci pensate è come se avesse 3 facce danno sul suo dado e poi abbiamo l'ultimo personaggio sempre dei rossi che è il pilota Tai il suo dado fa pena cioè fa solo modificatori focus e quant'altro però fino a quando il dado di questo personaggio è in campo tutti gli altri dadi Ranged non possono essere rimossi il che vuol dire che un dodge ipotetico rimuoverà solo il dado del pilota Tai con due dadi di pilota Tai in campo nessun dado Ranged può essere tolto perché un pilota Tai protegge l'altro pilota Tai 8 punti per 7 vite è un po' nì bene arrivati alla fine dell'analisi di tutti i personaggi malvagi finora usciti cosa si vince? non esiste un vero personaggio più forte meno forte e quant'altro esiste soltanto una un'unione di personaggi più funzionali ci sono alcuni personaggi che hanno bisogno di una costruzione di mazzo intorno ed altri personaggi invece che fanno da soli in un certo senso vi invito a provarli tutti quanti quanto più possibile e trovate quello che più vi piace per oggi è tutto vi ricordo di mettere un mi piace di iscrivervi al canale giocate 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 spandete il gioco e che la forza sia con voi ora fulfill your destiny se che non sono non 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 non